La situazione qui non è bella, la città di Wuhan è blindata già da giorni, su ogni via sia in ingresso che in uscita c'è un cordone di militari armati che hanno l'ordine di sparare a chi tente di entrare o di uscire, sembra tipo un film. Riguardo ai numeri non credete a quello che dicono in televisione, se i nostri telegiornali avessero detto i dati reali non sarei nemmeno partito per la Cina, quando sono atterrato già qua i cinesi parlavano di pandemia e purtroppo è un virus che si evolve e prolifica molto velocemente. E' un virus che è stato creato in un laboratorio militare a Wuhan e non dà alcun sintomo nei primi giorni e sembra che non si riesca a vedere niente neanche dall'analisi del sangue. Sembra proprio per questo motivo che lo scienziato che possiamo dire sia il paziente zero è riuscito a sfuggire allo screening test del laboratorio e poi ha iniziato ad infettare tutte le persone. Hanno parlato subito ovviamente di un contagio da parte di serpenti o cose del genere per non diffondere il fatto che è un virus che hanno creato loro modificando il virus della SARS, quindi cercando di potenziarlo. Poi non si sa se l'abbiano fatto a scopi militari per utilizzarlo oppure per potersi difendere nel caso, quindi normalmente creano prima il virus per poi creare il vaccino. Il problema è che ad oggi il vaccino ancora non c'è. E comunque sempre riguardo i numeri qui parlano di circa 9.000 morti e circa 70.000 contagiati. Le strutture della città di Wuhan sono da giorni a collasso diciamo. Per questo motivo stanno costruendo un ospedale in tempio record che dovrebbe contenere circa 1.000 letti. E poi dopo stanno iniziando in questi giorni a costruirne un altro ancora più grande che dovrebbe contenere quindi molti più letti. Quindi sì, comunque stanno pensando in grande. Oltre a Wuhan, a città di Wuhan, sono state bloccate anche altre città e ad oggi sono circa 70 milioni, quindi più della popolazione italiana. E queste persone qui hanno, quelle bloccate nelle città, hanno coprifuoco e hanno il divieto di usare qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a motore. E poi cos'altro? Nella provincia di Anui, che è quella di fianco a Wuhan, che è quella in cui mi trovo io, io sono la Defei di preciso, stanno passando anche qui dallo stato di allerta 1 allo stato di allerta 3. Allo stato di allerta 3 è quello di Wuhan, quindi città blindata. Noi per fortuna dovremmo riuscire a scappare proprio un pelo prima della chiusura, me lo auguro almeno. Poi le altre città, ad esempio Pechino e Shanghai, a parte che hanno cancellato il capodanno cinese, eccetera, però anche in queste città hanno iniziato a cancellare dei voli e hanno cancellato qualsiasi forma di trasporto pubblico. Proprio a causa di questi voli cancellati non sono riuscito a partire prima, riusciamo a partire solo domani e oltretutto dobbiamo fare un volo con diversi scali perché gli aerei si fermano a caricare i passeggeri anche da altri aeroporti. Quindi praticamente ci fermiamo, non scendiamo neanche e fanno solo salire gli altri. Diciamo che però quello che mi preoccupa molto è anche la situazione in Italia, perché non so se hanno passato la notizia, però pochi giorni fa è atterrato un aereo a Roma con circa 200 passeggeri direttamente da Wuhan. Mi sembra che da quello che mi è sembrato di capire, di leggere, gli abbiano solo provato la febbre e fatto l'analisi, ma non li abbiano messi in quarantena e senza una quarantena di almeno 10 giorni non è possibile riconoscere il virus perché non escono i sintomi e fino a quando uno non inizia a avere febbre, tosse, mal di gola e comunque problemi respiratori non se ne accorge, quindi insomma non è rassicurante questa cosa. Se veramente è così, qua mi darete confermo a voi se hanno passato al telegiornale qualche notizia o meno. Poi sì, diciamo che le cose principali sono queste qui. Ci sarebbe molto altro da raccontarvi, però queste sono le cose principali.